L'Istituto Comprensivo di Mascali ha aderito al progetto Fiumi Puliti, proposto dall'Associazione Nazionale Giacche Verdi Sicilia. Il progetto, spiega il dirigente scolastico Maria Cettina Maccarone, vuole promuovere i valori della salvaguardia dei fiumi siciliani, sollecitando gli alunni a ricercare soluzioni e comportamenti per agire a favore della tutela della natura che ci circonda, con l'obiettivo di guidare l'attenzione dei ragazzi verso i problemi che riguardano l'ambiente al loro vicino, ma ancora più in generale invogliarli a sperimentare un'educazione ambientale che possa insegnare loro a rapportarsi con la bellezza del territorio, inteso come bene comune da tutelare. Il progetto, rivolto agli alunni delle classi terze e quarte della scuola primaria, ha già promosso incontri formativi con i volontari dell'Associazione e si concluderà con l'uscita ambientale presso la riserva orientata del fiume Fiume Freddo. Durante le lezioni frontali, i volontari dell'Associazione hanno parlato ai piccoli studenti della salvaguardia ambientale e in particolare del fiume Fiume Freddo, luogo da scoprire e da tutelare. Nei prossimi giorni, gli alunni concluderanno il percorso con l'escursione al fiume Fiume Freddo, dove potranno finalmente esplorare e conoscere direttamente l'ambiente naturale del fiume.